Il mondo vi è stato dato solo in prestito. Io vi presto il mondo quando ogni tanto lo perdete. Ma guardate se un uomo di 53 anni si deve vestire come un deficiente. Il country è tutta la mia vita. Hai una visione angusta della vita, fratello Caro. Sei innamorato di me? Completamente. Non confondere mai l'insolito con l'impossibile. Grazie a tutti.